Ciao, sono Giussi Di Lalla e sono candidata alle elezioni regionali del Molise. Se vuoi sostenermi, il 25 e il 26 giugno traccia una X sul simbolo dei Popolari per l'Italia nella coalizione di centrodestra e scrivi Di Lalla. In questi intensi giorni di campagna elettorale ho avuto modo di confrontarmi con tantissime persone, però purtroppo non riesco a raggiungervi tutti. Per questo vi ho lasciato un video. Lo trovate su tutti i miei canali social Facebook, Instagram e sul mio canale YouTube. Grazie. Grazie.